Ben a tutti ragazzi sono Gizios e io sono ancora Alex con i miei guanti super sexy E come potete vedere stiamo continuando Crysis 3 rispetto all'ultimo episodio E quindi siamo su Crysis 3 Ok, delle feri che appare... scusatemi Lui passa attraverso così Mi dà un po' mi metto... mi metto... mi metto... mi metto... mi metto... mi metto... No, guarda, non c'è nessuno Questo posto di merda I chef sono ovv Ciao amico Ciao amico Dove scendere? Si Pratico apri qua... no odio Ah no, odio Scaramolo, provo un mk64 Ohhhh Ohhhh Però mi serviva un'arma più leggera Ma chi se ne frega Tanto lui c'ha la forza di 3 Ok Lui soltanto C'è poi c'è così a caso Non abbiamo fatto niente ma c'è poi C'è qualcosa lì che non mi piace per me Oddio cos'è un stone Ma io ho... tanto passate l'olio Si salda giù Io ho la freccia Nooo Non ho più dall'ultima volta Buttati ti ho detto Buttati che è morbido c'è l'acqua Buttati che è morbido Quei cavolo mi messo ancora a... ha un rinculo starma che... E' lì Ha due minuti a distanza Dai ce ne sono ancora due E qua ti ti hanno abbassato prima Corazza Corazza Mori Vai 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 No ho accultato Vai Ooooo Ok Esplodono come... Forse ne rimane il lungo No Forse appunto è il tipo No ne rimane nessuno vai Non ne occulto per sicurezza Alla stella di babilonia vai vai Che che roba è? Eh la stella di babilonia Devi utilizzarti... Oh fai qualcosa Oddio ma che è? Suvero cos'è? Eh... aramaico Oddio cosa ha fatto? Cosa? Cosa? Fase 3 Fase 3 Noi siamo connessi Cosa? Noi siamo connessi Io! Noi... Cos'è? Che ne prendo lo scato? Che sei? Chi mi ha... Che cazzo è? Oh mio Dio cos'è? Paraghi! Paraghi! What? Mi stiamo scambiando per un... Si mi scambio Oddio! Si incidiano! sono dio sono dio no non un semplice chef penso che io sia perchè? perchè sono stupidi si veramente e io fanno energia così come li stanno schiacciando no ti stanno schiacciando la loro mente no no sto bene sto bene oh no e se li riconosce oh cazzo son blu mi sa sono blu ah i loro pensieri e loro potere sono una cosa sola se sono riuscissi perchè ha formato la frase merda oh cazzo oh no abbiamo capito tutto raccogli 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 a tutto ah e quindi sono un dio si perchè hai assorbito quella roba lì perchè non hai sempre una roba sono sprecato posizioni come non so cosa però tra poco mi sa che finisce perchè stava ampeggiando con i ho fatto costa No è una roccia quella Vai vai che sta per finire Unisciti? Che? Quanti ci sono ancora? Che distruggerai anche questa merda? Si! Come si fa? No, segue il punto 2800 metri 2.800 metri Cosa è finita? È finita la barriera La barriera è gratuita Perché esploro su tutto? Perché se tu salti quando la barriera è finita esploro Ma cazzo Ma sto correndo da sotto Oh No, lascia di stare Ok, c'è qua Faccio io Oh merda, oh merda Mi muto giù? Si Ma questa arma qua non finisce Non lo so C'è ma io Oh! Dov'è? Eccolo Ecco, come farsi a artigliare? Mi fu scaricato su che cosa? Non lo so, solo che io Manca toia Un culato di finga Dov'è? Ci salta giù Fregetti Perché ho le piestrine sull'arco? Guarda Eh, perché se le messe? Davvero? Quando? Non me lo ricordo No, non lo so No, mi sa che c'era in un video Che mi sarei mettevano in un video prima Oh cazzo Ma di cazzo sono? Ma io me ne andrei senza ammazzarli Io direi così Passami al palazzo 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 Volevo mi metto un while Faccio al culo Io faccio così Cos'è? Cos'è quella cosa? Che cazzo è? Cos'è un Doom Buggy ultramodistico? Per usare What? Non so con che cosa Con il set No Con il suo me butto fuori All'antica Alla devo andare al punto Col mio Doom Buggy Arriverò quel punto Incredibile Ma al cunio è adesso Ma adesso con le Adesso con le Cazzo è una tutta Quello che? Questo è un piano Non è in tavolta Il suo me butto Mi è perso tutto Non è in più Un libro di più Ah Mi sono impantanato un po' Hai beccato un'iso Ma guarda c'è Oddio Ma non lo so Se Doom Buggy o龍panghe Nell'oltre va più sangra sull'acqua. No, no, dov'è, dov'è? C'è il cuore. Vai, 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 vai. Sì, vai, vai, tranquillo. Eh, non c'è il punto. Aspetta, dov'è, non lo vedo. Vuoi sapere come si fa a sparare? Non si spara, è stato chiuso. Tanto. Magari hai vito quelle due o tre macchine che ci sono, stanno sulla destra. No, non c'è cazzo. Oddio, tu no! No, io ci vado contro. Tu no! Mi stanno un po' sparando, mi dicono. No, mi spara, no! Mi stanno vedando. Cos'è? Cos'è? Cos'è partito? Cos'è partito? Lo so. Sasconditi dietro le scatole. Sì, ma non serve il bazooka. C'è ne uno qua. No, non serve il bazooka. Picchialo, picchialo col bazooka. Picchialo col bazooka. Sì, così, provi. No, lo ho fatto. Ma cosa ricamiti? Sei tu che hai cambiato l'arma, dovevi picchiarlo. Lo sto ricamando la mente. Eh, lo ti riesce anche a beccare. Ma che cos'è? Ma ah, non sono morto. Sei morto, dai muoviti, ti sta ammazzando. In testa e ciottati in una maniera paurosa. Non sai che non devo entrare di qua, ma di là ve lo. E' andata di là, è di là appunto. Di qua muori. Oddio. Di qua cadi nell'infini. Non morire, non morire, non morire, non morire, non morire. Perché sei andato qua? Spiegamelo. Ragazzi mi sono battato. C'era la sinistra. Ragazzi no, mi sono battato. Guardate che fiamme è poco realistico. Ragazzi mi sono battato. Questo è un punto del gioco in cui non bisogna andare e c'è il bug. E c'è il bug. Mi sono faggato, non ci credo. E non baghiamoci. Ecco di qua. Ok. Un attimo, ricaricare. In arrivo. Danone. 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 Ribelle di due. Ribelle. Ribelle. Ma io direi mettiamoci giù, senza farle scale. Ma io volevo adesso c'era qualcosa. Wow. Non baggarti. Non. L'ho sentato. Cosa? Ah no, no, no. Non sono baggato. Non sono baggato. Ci stavo. Falla così, buttati giù tutte le volte. Eh ma perché c'erano tantissime scale. E io volo sulle scale. Ragazzi facciamo le scale perché non voglio finire baggare. Ragazzi non vedo niente. Si si vede il posto è molto illuminato. che dicono. Ma veramente? Cosa? Perché? Perché questo spavento? Credevo che fossi inciampato sulle scale e fossi morto, non so. Mi sono preso un infarto. Questo è un jumpscare questo qua. Allora proprio c'ha le visioni di Claire che scappa. Bello. Porca! È morta? Non ci sa? È morta o si è fatta e quindi era così. No, io mi sono fatto. Ma che è successo? No, non lo voglio sapere. Cioè non lo voglio proprio sapere. Cioè... Dove sono? Abbiamo fatto un livello. Ma no. Ho morto. Perché cosa sono quei simboli che ho per te? No, io non voglio più cercare di capire cosa sia successo. Scriviamo qua. Dov'è Michael? A capo Romeo. Osserva il protocollo radio standard su questo canale. Passo. Come vuoi tu Romeo? Passo. Ah, io ero qua. Michael è tornato a salvare la camera. Ed è più forte che Mike. Quindi se vedete, lasciate un commento. Mettete mi piace. Iscrivetevi e noi ci vediamo nella colonna di luce del prossimo video. Quindi... Ciao ragazzi! Sembra una registrazione. Esaminiamolo con l'analizzatore. Registrazione. Forse... Forse un messaggio di mio padre. Ok, analisi completata. Ascoltiamolo. Eh, molto confuso. Salve terresti. No, non è mio padre. Sono re del pianeta FM. Per l'appunto. Stavo venendo a distruggere la... Sto venendo a distruggere la Terra. Considerate il vostro pianeta già morto. Grazie!